Un ciclo di incontri sull'educazione civile e stradale rivolto agli extracomunitari presenti nel centro Sprar a Gela è l'iniziativa del comando di Polizia Municipale, letto da Giuseppe Montana. Il primo appuntamento si è tenuto con il discorso, ieri altro incontro, il vigile urbano Totosauna. Questi ragazzi, al di là di quelli che possono essere i nostri pensieri, le nostre opinioni, devono essere aiutati a rispettare le regole, devono essere aiutati ad integrarsi nella nostra società, devono essere aiutati sicuramente a conservare la propria vita, a conservare e chiaramente a salvaguardare anche la vita degli altri. Quindi è iniziata questa collaborazione, secondo l'incontro che facciamo, è stata una collaborazione molto positiva e devo essere sincero, ho visto in questi ragazzi tanta voglia di imparare, tanta voglia di collaborare, tanta voglia di imparare e questo secondo me è la cosa più importante. La Polizia Municipale fa sì che diventa veramente uno strumento importante a servizio della città, a servizio di tutte le varie componenti della città e penso che questa sia una cosa positivissima. Hanno partecipato in tantissimi a questa iniziativa, l'hanno ritenuta molto utile, soprattutto perché molti di loro si muovono con la bici all'interno del paese, per cui proprio per salvaguardare la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada hanno partecipato con molto entusiasmo. Grazie alla Polizia Municipale che sta impegnando sul chiessocorso che è molto importante per noi, perché è una progetta che progetta la vita a noi le stesse e anche a voi. Quindi è una cosa molto importante per noi, anzi grazie a voi per aver regalato chiessocorso.